Costruire città intelligenti in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e rispettare l'ambiente sviluppando sistemi di trasporto attenti al risparmio energetico e utilizzando le nuove tecnologie per fornire servizi online innovativi. Le strategie e le esperienze maturate in Italia e negli Stati Uniti per costruire Smart City sono state al centro della prima tappa di Smart City Tour organizzata dall'associazione Amerigo che si è tenuta lo scorso venerdì a Palazzo Vecchio e ha messo a confronto pubbliche amministrazioni, aziende ed esperti del settore. Tra le esperienze pilota è stato presentato il caso di Pisa che punta sulla mobilità elettrica e sull'efficienza energetica. Noi abbiamo diversi progetti che messi insieme hanno una certa coerenza, riguardano l'efficienza energetica, riguardano il turismo, riguardano la mobilità urbana, quindi applicazioni digitali che in modo organico, non come spot momentanei, via via creano una rete più intelligente di servizio ai cittadini, ai turisti, ai bisogni, perché credo che la città è intelligente se sa rispondere in modo appropriato ai bisogni e anche se sa risparmiare risorse, perché risparmio di risorse consente poi di avere altre risorse per investire in innovazione. Abbiamo anche il progetto per la mobilità elettrica che condividiamo con due città molto più grandi che sono Roma e Milano. Durante il convegno a cui sono intervenuti tra gli altri l'ambasciatore degli Stati Uniti John Phillips e il presidente dell'osservatorio Smart Cities del Lanci, Francesco Profumo, l'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti, ha presentato il progetto che vede Enel e Comune di Firenze collaborare per lo sviluppo della mobilità elettrica. Noi vorremmo poter fornire a tutti i cittadini di Firenze la possibilità di muoversi con sistemi elettrici, la mobilità elettrica è uno dei vantaggi principali, la possibilità di essere collegati e connessi con un sistema di rete per cui molte operazioni possono essere fatte a casa senza dover affollare uffici. Tutto questo fa parte di un processo di evoluzione del sistema dove Firenze, essendo una città di medie dimensioni, molto vincolante dal punto di vista urbanistico, si presta magnificamente per questo tipo di operazione.